Settima edizione Cardacrucca 2019, gli applausi sono tutti per lui, Michele Belluschi! Gli ultimi gradini, e entrerai in piazza con il nostro supporto, il nostro applauso, il nostro calorosissimo applauso per questa seconda piazza! Andrea Secchiero! ...d'accogliere anche lui, quest'oggi in terza piazza, il portacolori, eccolo qui della Pro Sesto Atletica, mentre anche lui sulla piazza para vicino, il test di quest'oggi, grandissimo, Matteo Boniano! Fai pure la foto Arturo e poi mi chiedo a tutti e tre di venire. C'è perché è un'ora e tre, era il record e accogliamola con il nostro applauso, il nostro incitamento, la vicitrice di questa edizione 2019! La seconda di quest'oggi, qui in piazza para vicini, Cardacrucca, seconda piazza per la nostra, Rosanna Urso! Ed eccoci qui, al traguardo! E lei la terza, in effetti perché Serena era fuori gara, arriva Micola! Luca Icaironi!